il cantiere è un luogo per eccellenza per le giovani generazioni è nato diversi anni fa anche grazie al sostegno e fondazione casse risparmio presentare qui questa iniziativa a un valore ancora più grande è un'iniziativa che va verso il protagonismo dei giovani che invita i giovani a mettersi in gioco anche singolarmente in piccoli gruppi con uno scopo ben preciso quello di crescere crescere nell'attenzione a quello che è il bene comune l'interesse generale e soprattutto cambiare la società noi ci aspettiamo una risposta analoga a quella che abbiamo avuto nel bando per la commissione giovani quindi molte idee molti giovani che si sentono stimolati da questa nostra richiesta che cosa ci aspettiamo spero che saranno idee relative soprattutto alla condizione giovanile quindi relative a attività culturali che siano di loro interesse a luoghi eventuali recuperi di luoghi di aggregazione dove possano ritrovarsi però anche spero che ci siano delle attività che riguardano l'ambiente ma anche un po di solidarietà sociale quindi l'idea per esempio di poter coinvolgere i giovani in attività di affiancamento alle persone più fragili agli anziani eccetera sarebbe tutto importante per la crescita nel nostro territorio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!